Samsung, il colosso della telefonia e non solo cerca adepti tra automobilisti e camionisti, lancia in commercio un modello di camion davvero unico e straordinario. A prima vista l'invenzione può sembrare quantomeno bizzarra, ma un video che sta spopolando in rete in questi giorni sottolinea l'importanza di guidare i sicuri. Safety track si chiamano infatti questi auto articolati che hanno uno schermo piatto gigantesco sul retro e attraverso delle telecamere wireless attaccate nella parte anteriore del camion permettono agli automobilisti che non hanno una visuale perfetta di decidere se e quando sorpassare. Come vediamo nel video, in Argentina ogni ora muore una persona in un incidente stradale, numeri che spaventano e per questo hanno spinto la Samsung a investire in questi safety tracks. I camion con lo schermo sul retro poi danno una perfetta visione della situazione dall'altra parte della corsia anche nelle ore notturne. Insomma, non una semplice trovata pubblicitaria, ma una innovazione che potrebbe ben presto rivelarsi necessari e salvare molti vite.